Bella a tutti ragazzi qui Yukon, è il terzo episodio questo della mod di amnesia, della demo scusate no mod Della demo di amnesia dovrebbe essere il terzo ed ultimo Se i miei calcoli sono esatti Che cazzo Sono pesci rossi resi cattivi Pesci rossi resi cattivi dalla mancanza di cibo Possiamo vedere come tentino di addannare qualsiasi eco e come riescono ad addannare Qualsiasi incauto visitatore entri nel loro territorio Sto morendo Appena cosciente un leggero mal di testa Corri, 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 corri Allora Ecco come potete vedere il pesce rosso segue la sua preda Che incautamente si lancia nell'acqua Ok basta Ok Oddio Non essendo le 12 e mezza come l'ultima volta Posso anche parlare un po' più forte Spero l'audio si senta meglio Quindi No, 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 no No Ok l'audio si sente meglio Ma io faccio comunque schifo Quindi Stai fuori dall'acqua Sì Fino lì Ci ero arrivato anch'io Ricominciamo Dal SharePoint Sì, quindi Sapendo che c'è il pesce rosso E che il pesce rosso in questione è molto cattivo Cerchiamo di non Cadere nel Ecco appunto Sì, sì Sì Ottimo Dai che riesco a morire anche qui No Dentro di qua Sì Oh mio dio Ti prego saltasi No Sono le colonne che si No, non sono le colonne No, no Eh beh Eh beh Aspetta, affoglialo Affoglialo Lì Perfetto Grazie No, qui non si apre Cos'è? Sì Laudano Cosa serve Una ferita Ah Buono Quindi il laudano è Per la salute fisica Ha servito qualcosa Entrare qua dentro Nonostante Si è stato molto rischioso Ok Ok, il pesce rosso No, 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 no Il pesce rosso Ho reso cattivissimo Dalla 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 mancanza Di cibo Non so come si chiamano Quelle tipo Quelle bricioline Che si danno Di solito Ai Ai pesciolini Nella boccia Però Vabbè Non so come si chiamano Ma non penso neanche Si è molto importante Però Cioè Almeno Tipo Si vede che in questa casa Non ce li hanno Quelle bricioline lì Quindi non riescono a Bene Un cancello pesante E dov'è che Non sono andato Qui Penso stia morendo Sì Ormai sì Siamo prossimi Alla fine Bra lì Guarda Potrebbero fare Il sequel dello squalo Il pesciolino rosso No Ok, basta Sparare cattate Eh beh Eh beh Però Non c'è più niente Come Appena cosciente Si immagino sia quello Che probabilmente Mi rende la visca La La visca Mi rende la visca Mi rende Perfetto Continua A fare il coglione Vedrai che ne usciamo Da qui Sì Ok Stai fuori dall'acqua Ok, ho capito Quindi Adesso Prima andiamo a vedere Quella Catto distanza là Perché probabilmente là C'è qualcosa per aprire Il cancello O è qui o è là Eccola No 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 Salta Salta come se fosse l'ultima cosa Che fai Ecco Appu No No Ah merda L'olio Non è che finisce Via È un suicidio Il cittadino Il cittadino rosso È morto No No È lì Eh Troppo bello Sì No Io sono nell'acqua Eccaci E cammina Spedito Vai vai Ti prego Muoviti Mio dio Mio dio Salta Vai là Vai là Vai là Vai là Oh mio dio Che Cazzo Ci sono cattivi Pesciolini rossi In sto gioco Sono una cosa Terribile Ma come Olio Prendilo però Sì Perfetto Vai Via lì Vai corri Pesciolino Corri Corri Mio pesciolino Vai Corri Mio pesciolino Sei Corri Vedete no La sigla Si chiama Vola mio mio nippon C'era il cartone animato Ecco Qui ci facciamo No Vai Muoviti Apri sta cazzo Di porta Morta Gesù La carne morta siiii cazzo dove mi fare rispondo almeno qui quindi io so che cosa è di là lanciamo sto cazzo di me vai 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 prendi sto dai ecco dai non rompere il cazzo a me puttana eva dai 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 che poi quindi agendo un attimo con calma se io questo te lo lancio lì tu dovresti andare lì sta ancora mangiando quello quindi ok vai giralo però si veloce 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 nooo ma basta che schifo questo è l'ultimo tentativo perchè se non mi riesce adesso vuol dire che sono uno scandalo in effetti si è vero sono uno scandalo interna ok qui vabbè vai la no no non gli interessa minimamente preferisce carne viva il pesciolino rosso che cazzo vuol dire che cazzo che cazzo che cazzo scrivetemi magari nei commenti se vorreste se vorreste che continuassi amnesia nel caso appunto scrivetemelo ragazzi io vi saluto ci rivediamo al prossimo video bello a tutti ciao